Buongiorno amici, quarto e spero ultimo video della serie dedicato ai neschi galleggianti pop up siamo partiti dalla storicità dell'innesco, abbiamo analizzato soluzioni molto semplici e soluzioni anche più complesse e siamo arrivati alle pop up, super pop up, quelle che galleggiano e basta, visual eccetera siamo lasciati con degli ingredienti, oggi vediamo di analizzare una ricetta e vediamola in un'ottica molto professionale allora l'obiettivo è una ricetta per pop up o dumbbell che galleggi per sempre, che sia gommosa e compatta e facilmente colorabile, quindi di partenza è estremamente chiara come colori delle farine allora abbiamo la farina di riso che è una farina molto chiara, impalpabile, abbastanza agglomerante perché amidacea e con un peso specifico medio, non leggerissimo abbiamo il casinato di sodio che è sostanzialmente una proteina del latte estremamente leggera quindi questo è già un bel elemento che alleggerisce abbiamo le proteine del siro del latte, whey protein concentrate, l'80% che sono sostanzialmente il legante tecnico di cui abbiamo bisogno perché compattano e mantengono una certa elasticità del costrutto abbiamo l'amido di mais, ingrediente anche questo amidaceo e compattante che contrasterà quindi l'azione delle proteine inserite con le whey e con il caseinato e abbiamo le microbolle di vetro che ci permettono quindi di portare il peso specifico del mix a livelli bassissimi cosa ci manca ancora? ci mancano degli ingredienti tecnici ci mancano quegli ingredienti che possono permetterci di rullare le esche allora il principale è il CMC, carbometilcellulosa, carbosilmetilcellulosa, bla bla bla, quel che l'è CMC è un additivo utilizzato in pasticceria per rendere plastico e elastico l'impasto dello zucchero con cui fare poi sculture o ricoprire le torte quindi CMC è quell'ingrediente che ci darà la plasticità e la gommosità che ci serve per estrudere e rullare e che poi viene mantenuta anche dall'impasto stesso allora questo ingrediente tecnico si dosa in grammi ovviamente e se avete già trovato una buona proporzione degli altri cosa che potete fare certamente con facilità perché ve li ho elencati in ordine di quantità quindi arrangiatevi un po' giocate un po' con le farine tanto qua gli esperimenti li fate con 50 grammi se volete su 50 grammi di mix l'ordine di idee di CMC è dai 2 ai 5 grammi a seconda della plasticità che avete bisogno di ottenere per dare il massimo del colore utilizzate coloranti liquidi usati proprio per la pasta di zucchero che sono fatti per fare quelle torte shock, blu elettrico, giallo fluo, bianco cangiante e via discorrendo nel quantitativo che vi serve come altro liquido utilizzerete solo aroma puro quello che volete dare all'esca che magari è in riferimento a ciò che usate in pastura e su 100 grammi andate a inserire sostanzialmente il quantitativo che mettete sul chilo di mix di boiling normale quindi 10 volte tanto e poi per finire l'impasto in linea di massima si usa albumina e albumina scusate albume d'uovo ok che però essendo i piccoli quantitativi va proprio aggiunto un cucchiaino alla volta finché andate alla plasticità che vi serve siccome queste esche le fate poi non è che le pasturate le usate a tempo anche indeterminato ricordatevi di mettere anche un grammo di sorbato di potassio e un grammo di propionato di calcio sui famosi 50 100 grammi di mix che avete preparato in modo da dare una certa stabilità poi queste sono esche che asciugano bene rimangono gommose nell'industria ovviamente si usa anche il glicole perché è molto più facile gestirlo rispetto all'albume d'uovo liquido molto più facile come ingrediente perché è un ingrediente che non presenta rischi biologici e quindi se io ho l'etanicone di glicole in azienda i NAS controllano la scheda tecnica e se ne vanno se io ho l'etanicone di albume vogliono vedere come sono conservate vogliono vedere se il frigorifero funziona vogliono vedere un sacco di cose sacrosante perché l'uovo se conservato male è una bomba chimica difficilmente gestibile allora quindi abbiamo capito che se devo fare grossi quantitativi mi serve anche il glicole in questo modo avrò grazie anche i conservanti indicati una stabilità pressoché eterna nel barassolo ok vi dicevo che non ci vanno tanti altri additivi perché effettivamente come concetto queste esche andranno a stuzzicare la vista del pesce svetteranno su una macchietta su una bombetta su uno stick ben fatto e quindi sarà un gioco di ruoli no la questa pallina deve solo galleggiare essere visibile e deve sposarsi in maniera estremamente mirata con un terminale capace di allamare anche alla minima abboccata c'è un qualcosa di talmente tecnico che gira nella bocca e si aggancia anche se il pesce la prende solo a fior di labbra per capire che piffero è questa pallina bianca profumata ok gli aromi che abbiamo utilizzato per impastare saranno percepiti dal pesce solo al contatto con le labbra quindi questo ci può dare per questo vi ho detto di metterli perché ci può dare una chance in più che lo sputo non sia immediato ma che ci sia quella parvenza di trattenere che forse ci regala qualche chance in più è un po come i vermi da bass che sono fatti di silicone per quindi un materiale non edibile che sono pesantemente scentati a volte col sale perché questo fa sì che il pesce lo tenga in bocca quella frazione di secondo in più reputandolo gustoso che ci permette magari di arrivare giusti con la ferrata e di non sbiancare ogni arriviamo adesso a quello che potrebbe essere lo stato dell'arte perché io potrei costruire un'esca che è sia attrattiva che pop up che potrebbe essere la nuova generazione e come posso fare beh la devo impostare su ingredienti costosi ma fortemente attrattivi già di loro e quindi impostarla su una base di idrolizzato quale quello che voglio di fegato di pesce quant'altro quindi scelgo magari l'idrolizzato che ha il colore più chiaro se lo voglio se poi voglio comunque sbiancare e colorare e quindi i miei ingredienti diventano l'idrolizzato che è la parte più grossa il caseinato di sodio che è l'ingrediente alleggerente avrò bisogno in questo caso di un addensante scusate delle whey protein come addensante e ingrediente di tenuta e avrò bisogno comunque di un qualcosa che mi dia compattezza durante la fase di impasto e questo qualcosa può essere la colla di mais la colla di mais altro non è che l'amido di mais destrinizzato cioè trattato sia termicamente che enzimaticamente per essere immediatamente attivato dai liquidi quindi quando io lo impasto lui incolla e questa cosa mi permetterà di tenere insieme intanto che impasto questo costrutto che avrà quindi bisogno poi di albumina e cmc per raggiungere la giusta durezza una volta cotto e la giusta elasticità per poter essere rullato con questo insieme di elementi io impasto il tutto sempre con l'aroma oppure con cosa con aminoacidi in forma liquida quindi vado a sciogliere in acqua demineralizzata piccolo quantizzativo degli aminoacidi in forma libera tipo glutamina lisina vanno benissimo anche i branket chain aminoacidi quindi gli aminoacidi a catena ramificata la prolina tutti quelli che sono ampiamente descritti nei miei libri come essere stati valutati più attrattivi per la carpa quindi mi creo questo liquido che deve essere a base d'acqua per attivare la destrina e impasto semplicemente quindi con l'aroma con questo liquido fino a ottenere una consistenza giusta per poter creare delicatamente queste palline che verranno cotte a vapore e in funzione di come avrò equilibrato gli ingredienti potranno resistere sul mio terminale in maniera galleggiante per periodi di tempo di 2 3 4 5 massimo 6 ore quindi degli inneschi solubili pop up fortemente attrattivi galleggianti esercizio di stile che io non ho mai provato a fare perché sono uscito dal settore prima che questa cosa potesse diventare interessante ma che reputo potrebbe essere una nuova frontiera da scoprire per voi che siete i guru del car fishing fra 30 anni ok ciao ragazzi chiudiamo qua con le pop up che mi sono rotto le pop up ciao